come come può iniziare questo video quale può essere il giusto inizio di un video che parla di una prima pagina della Gazzetta dello Sport in cui si conferma la volontà di Paolo Di Bala di andare all'Inter come parametro zero dopo sette anni di Juve una finale di Coppa Italia da giocare ancora questa stagione proprio contro l'Inter e dopo una rivalità infinita tra bianconeri e nerazzurri inizia così con delle sbuffate della sofferenza ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi dovevamo parlare di Milinkovic Savic e di un presunto accordo che la Juventus avrebbe trovato con il giocatore lo faremo in seconda battuta magari già nel pomeriggio non potevo però non parlare di questa cosa qua perché la Gazzetta appunto ha lanciato la bomba in prima pagina sembrava che all'inizio fosse presente un'offerta da parte dell'Inter che Di Bala non aveva preso in considerazione e che invece al momento Di Bala abbia deciso di scartare altre offerte per andare davvero effettivamente all'Inter leggo testuali parole Paolo vuole prendersi la rivincita sulla Juve che non lo ha confermato ingaggio di 6 milioni più corposi bonus se si parla di qualcosa come 4 anni di contratto l'Inter ha scelto Paolo Di Bala e non è nemmeno pure una notizia ormai lo è semmai invertendo soggetto e complemento oggetto della frase già perché il feeling è reciproco anche la Hoya ha scelto l'Inter e ha scelto il neroazzurro questa è l'indiscrezione lanciata sulla Gazzetta da Davide Stoppini giornalista che onestamente non conosco quindi potrebbe essere appunto lato Inter allora prima di iniziare a parlare di tutto il discorso permettetemi un po' di complottismo e cioè guardo la data di oggi 4 maggio 2022 io ragiono su questo binario e cioè che su un binario davvero tra 7 giorni ci sarò e sarà il binario del treno che mi porterà a Roma ad assistere appunto alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter e questa notizia del numero 10 della Juventus vicecapitano della Juve che è pronto a dire di sì proprio ai rivali dell'Inter squadra da affrontare tra esattamente una settimana un po' mi puzza devo essere onesto, devo essere sincero un pochino mi puzza poi questa è la mia parte probabilmente da tifoso innamorato di Paolo Di Bala che è stato innamorato di Paolo Di Bala tanti anni avete visto anche tutte le mie maglie su Paolo Di Bala era un giocatore, è un giocatore sul quale in tante stagioni veramente ho lasciato il cuore e mi è dispiaciuto tanto, lo sapete com'è finita tra Paolo e la Juventus ne abbiamo già parlato tante volte, credo che ci siano state colpe da una parte e dall'altra quella di Paolo era quella di non avere un vero e proprio procuratore nel momento in cui la Juventus aveva sottoposto effettivamente il contratto ad ottobre ovviamente se tutte queste notizie dovessero essere confermate io le prendo per buone perché queste sembrano le ricostruzioni fatte da tutti gli addetti ai lavori dall'altra parte la colpa della Juve è essersi rimangiata un contratto che aveva sottoposto a Paolo Di Bala che non aveva potuto firmare appunto per il discorso procuratore quindi inutile puntarsi il dito è colpa di questa e colpa di quell'altro ognuno probabilmente ha delle responsabilità alla fin della fiera in un modo o nell'altro qualunque sia stata la verità c'è una sola verità alla fine che Paolo Di Bala e Juventus si separeranno e lo faranno a parametro zero lo faranno al 30 giugno 2022 quindi tra poco più di due mesi poco meno di due mesi e Paolo sarà libero di andare dove vuole si era parlato di qualche offerta dall'estero si era parlato di Atletico Madrid si era parlato di Barcellona si era parlato anche di Tottenham che era una delle squadre che lo aveva cercato nell'estate del 2019 quando l'evento si aveva sostituito Allegri con Sarri si era parlato di Manchester United perché Cristiano Ronaldo potrebbe non rimanere lì Tenag potrebbe invece volere un giocatore come Paolo Di Bala tecnico, un giocatore bravo nello stretto un giocatore bravo tra le linee e alla fine invece ecco che arriva Beppe Marotta l'Inter è fatta così ragazzi l'Inter è incredibile questa cosa dell'Inter è prima Conte, poi Marotta, Asamoah, Vidal adesso vogliono Di Bala probabilmente me ne dimentico altri per strada però loro non sono contenti se non ci fanno un dispetto cioè questa cosa lasciatemela dire proprio non sono felici se non fanno un dispetto a noi o al Milan con Cialanoglu per dire noi ne lo fatti specie noi soprattutto ragazzi io sarò impopolare ma da sempre tengo questa linea tengo questa linea che è professionismo e fanno quello che vogliono l'ho detto con Antonio Conte che era molto più pesante rispetto alla situazione di Paolo Di Bala l'ho detto con Leonardo Bonucci che sceglie di andare via dalla Juve di andare al Milan ci fa gol, ci esulta e poi ritorna e anche lì era molto più pesante perché comunque Bonucci ragazzi è un giocatore che alla Juve ha fatto forse anche più stagioni o forse no forse in realtà ne aveva fatte più Paolo in questo momento continuative Bonucci l'ha fatta nella totalità però comunque siamo lì questa di Paolo non sembra nemmeno una sua scelta di principio perlomeno perché poi lo diventa perché se hai altre offerte scegli quella dell'Inter poi è ovvio che la scelta la fa Paolo però Conte era libero poteva scegliere tante altre squadre ha scelto lui l'Inter Bonucci ha scelto lui di andarsene Paolo avrebbe continuato come Conte e Bonucci hanno voluto lasciare la Juve Paolo non avrebbe voluto lasciare la Juve quindi forse questa è la cosa che più degli altri distingue Paolo da Bonucci e Conte poi come da il punto di vista prettamente logico e professionismo c'è il mio punto di vista a livello di umore c'è il mio punto di vista a livello da tifoso e si fa fatica dopo si fa fatica dopo a giustificare certe scelte però è ovvio che che parliamo del punto di vista di Luca Toselli tifoso della Juventus che non può essere maggiore del punto di vista lavorativo professionale di Conte e Bonucci di Bala adesso nomino questi tre perché sono stati i primi due che hanno fatto effettivamente quel passo verso altri colori e di Bala che probabilmente lo farà quindi di Bala non sarebbe il primo aggiungo non sarà l'ultimo perché quante altre volte succederà sicuramente mi dispiacerà o mi dispiacerebbe perché ribadisco io non dico che non accadrà perché potrebbe benissimo succedere lo sappiamo tutti abbiamo visto davvero di tutti se Antonio Conte ragazzi Antonio Conte adesso capisco magari che ha qualche anno in meno ma Antonio Conte è stato capitano della Juventus per un'eternità ha allenato la Juventus l'ha riportato in alto è andato all'Inter a vincere all'Inter cioè se c'è andato Antonio Conte mi aspetto che soltanto Del Piero avrebbe potuto fare un passo di questo tipo cioè Antonio Conte ragazzi Antonio Conte è andato all'Inter potrebbe andarci pure Paolo Di Bala sì ma lo dico dal giorno zero anzi dal giorno zero dico se effettivamente la Juve non sottoporre il contratto di Bala faccio anche un po' più fatica a dargli delle colpe che ci sono perché nel momento in cui scegli l'Inter comunque hai scelto l'Inter e saresti potuto andare all'altra parte far tutti contenti se però dall'altra parte i progetti non lo convincono o addirittura esagero perché magari posso anche esagerare non ci sono state offerte o comunque non ci sono state offerte convincenti o non ci sono state offerte che lui considera al suo livello allora la spiegazione Inter ci sta penso che sia una delle poche squadre in Italia che possa permettersi di pagare un ingaggio come quello richiesto da Paolo Di Bala una delle poche squadre in Italia in cui Di Bala sarebbe addirittura tratto per via di quello che è lo status in questo momento poteva essere anche il Milan o magari il Milan mince lo scudetto e te se la Paolo Di Bala poi che me vado al Milan all'Inter mi cambia poco perché Paolo ormai io lo vedo bianco nero e dato che non si continuerà insieme mi piacerebbe vederlo fuori dall'Italia però ragazzi questa questa è la mia opinione la mia opinione si ferma lì purtroppo so perché ho già letto ecco poi ho letto cose brutte perché ho già letto auguri di infortuni e robe del genere che veramente mi fanno schifo lo dico proprio tranquillamente mi fanno schifo schifo la polemica ci sarà cioè quando un calciatore fa un movimento di questo tipo ragazzi io mi ricordo Ronaldo il fenomeno mi ricordo Bobo Vieri che cambia proprio mi ricordo Leonardo che va a allenar lì cioè ne sono state una ma ma potrei stare qui a raccontarmi un milione un milione ma non cambierà la sostanza che il calcio è fatto anche di queste cose qui di cose clamorose guardate Tevez che ha fatto i due Manchester Higuain che è venuto da noi a giocare dopo essere stato uno dei calciatori che ha fatto più innamorare Napoli dopo Maradona e che poi è stato etichettato come traditore ragazzi ce ne sono state troppe troppe e ce ne sono state troppe per volontà figuratevi se vieni letteralmente scaricato poi io ribadisco io ribadisco a sette giorni nella finale di Coppa Italia questa notizia un po' di dubbi me li fa venire questo discorso che vi ho fatto è un discorso generale che se dovesse davvero concretizzarsi questa trattativa di Di Bala all'Inter è certo che ci rimarrei male e ragazzi ma come faccio a dirvi di no cioè è Paolo Di Bala che va all'Inter e ci rimarrei stronzissimo stronzissimo dall'altra parte però vi dico la Juve nel momento in cui lascia libero Paolo Di Bala di firmare con chi gli pare a zero mette anche in preventivo l'eventualità l'ipotesi che Di Bala possa scegliere una squadra scomoda la Juve e cosa fa la Juve adesso va a dire a Paolo ma come ti permetti di andare a firmare con l'Inter cioè dovesse succedere a me una roba del genere direi mi avete lasciato libero a parametro zero il che significa che sono libero di scegliere la mia prossima squadra poi io non so se Paolo effettivamente ha già davvero deciso se l'Inter ha davvero fatto una proposta perché non lo so deve vendere l'autore quindi lo sostituirà con Paolo non ne ho la più pallida idea queste sono le notizie uscite sui giornali di oggi sul giornale più imponente nell'Italia del calcio calcistico come la Gazzetta il più famoso io ve la riporto ma mi fermo lì mi fermo lì perché davvero parlare nel sette giorni alla finale di Coppa Italia secondo me fa male a tutti a tutti e aggiungo che il mio sogno a questo punto vero o non vero a questa notizia è Paolo Di Bala che risolve la finale di Coppa Italia contro l'Inter a favore della Juventus per vedere anche la reazione perché davvero tra sette giorni abbiamo la possibilità di vedere con i nostri occhi Di Bala e l'Inter ma da avversari e il pensiero la possibilità che anche Di Bala e l'Inter possano essere avversari già dall'anno prossimo un pochino mi destabilizza poi io sono fatto così dall'altra parte a livello sportivo godo se riusciamo a a superarli questi ostacoli prima parlavo di Conte Bonucci lo scudetto vinto da Sarri è qualcosa di bellissimo ai danni di Conte lo scudetto dell'anno scorso di Conte che abbiamo perso mi ha dato super fastidio così come lo scudetto ai danni di Bonucci mi è piaciuto tantissimo ma a maggior ragione mi è piaciuta la disfatta del Milan in Coppa Italia in finale proprio contro Bonucci quella è stata veramente una roba fantastica per far capire ai giocatori agli allenatori ai tesserati il Marotta stesso che se ne vanno da noi che la Juventus non muore letteralmente mai diceva un certo repice ed è sempre bello fargli capire che magari le decisioni che hanno preso sono state sbagliate quindi se dovesse mai Di Bala andare all'Inter io la prenderei addirittura come questa voglia di dimostrare ancora di più a maggior ragione che l'anno prossimo lo scudetto deve venire sulla nostra maglia poi questo è il mio modo di vedere il calcio e cerco sempre di vederlo il lato positivo anche in una notizia terrificante come quella della prima pagina della Gazzetta di oggi fatemi sapere anche un po' le vostre opinioni ma soprattutto le vostre sensazioni